salve a tutti buongiorno fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 4 febbraio 2019 questa è la nuova puntata dopo un periodo che non ci siamo sentiti e ricominciamo oggi con i nuovi messaggi iniziamo da me giu cori del 2 febbraio del 2019 apparizione a miriana e che cosa qui ci dice la vergine maria dice in modo particolare questo l'amore la bondà del padre celeste danno delle rivelazioni che fanno sì che la fede cresca venga spiegata porti pace sicurezza e speranza così anch'io figli miei per l'amore misericordioso del padre celeste vi mostro sempre di nuovo la via a mio figlio all'eterna salvezza purtroppo però molti miei figli non vogliono ascoltarmi molti miei figli esitano ma io io nel tempo e oltre il tempo sempre magnificato il signore per tutto quello che ha fatto in me e per mezzo di me mio figlio si dà a voi spezza il pane con voi vi dice parole di vita eterna perché le portiate a tutti e voi figli miei apostoli del mio amore di cosa avete paura se mio figlio è con voi mostrategli le vostre anime poi dice vivete il vangelo vivete l'amore misericordioso verso il prossimo ma soprattutto vivete l'amore verso il padre celeste figli miei non siete uniti per caso il padre celeste non unisce per caso nessuno e questo è quello che dice la vergine maria qui a me giugore dice non dovete temere di difendere col vostro esempio la verità la parola di dio che è eterna e non cambia mai questa frase che abbiamo sentito proprio adesso non dovete temere di difendere con il vostro esempio la verità la parola di dio che è eterna non cambia mai questa frase a me giugori verrà ripetuta pur in altre apparizioni proprio perché come adesso vedremo in questi messaggi sembrerebbe che c'è un qualcosa una novità nella santa chiesa che dovrebbe avvenire a breve forse secondo la tempi del signore che dovrebbe modificare molte situazioni iniziamo a vedere i messaggi ad anguera come potete vedere anche dal ovviamente dallo schema che abbiamo scritto qui e soprattutto poi anche della miniatura che riguarda proprio la santa chiesa e dice questo il primo messaggio è quello iniziamo da quello più vecchio diciamo che del 29 di gennaio dice questi confidate pienamente mio figlio gesù lasciate che lui conduca le vostre vite siate miti e umili di cuore perché solamente così potete comprendere i progetti di dio per le vostre vite io voglio vedervi felici qui sulla terra e più tardi con me in cielo vivete nel tempo delle grandi tribolazioni ma il signore non vi abbandonerà vi chiedo di aver coraggio ovunque cercate di testimoniare che siete di mio figlio gesù non permettete che gli insegnamenti di mio figlio siano lasciati da parte gli uomini perversi vogliono spegnere la luce della verità ma voi potete vincere i nemici con la vostra sincera e coraggiosa testimonianza verrà il giorno in cui la verità sarà abbandonata e regnerà nei cuori di molti quello che è falso qualunque cosa accadrà rimanete con la verità cioè rimanete con gesù questa è la cosa più importante quindi vedete come sono collegati anche me giugori e anguera e dice questi cari figli questo è il messaggio del 31 gennaio del 2019 verrà il giorno in cui molte delle verità di fede saranno disprezzate e molti scelti per difendere la verità si ritireranno per paura molti agiranno come giude consegneranno tesoro tesori a nemici soffro è quello che viene per voi vi chiedo di essere difensori della verità non temete non temete quindi ecco non permettete che la novità dei mici vi allontanino dalla verità del mio gesù e dal vero magistero della sua chiesa quindi è come se dovesse accadere a breve questo tipo di discorso un scenario che effettivamente in molte profezie si parla che verranno modificate determinate cose tra cui anche la stessa liturgia e anche la parola di dio staremo a vedere secondo quello che avverrà messaggio del 2 febbraio quindi in contemporanea con me giugori dice questo dense tenebre cadrano cadranno sulla chiesa del mio gesù e molti consacrati saranno contaminate da una triste cecità spirituale molti scelti per difendere la verità si ritireranno soffro per quello che viene per voi vi chiedo di essere difensori della verità il mio gesù è la luce che illumina e vi allontana da tutto il male state attenti non rimanete fermi quello che dovete fare non lasciatelo per il domani fatelo oggi ritornate in fretta a dio quindi come vedete c'è un problema sicuramente all'interno della santa chiesa che dovrà accadere andiamo invece al nuovo messaggio di luz de maria del 28 di gennaio 2019 e che cosa qui dice in questo caso il signore scusate ecco dice questo proprio il riferimento alla chiesa la santa chiesa cattolica dice questa la mia chiesa è stata invasa dalla zizzania che alcuni dei miei vi hanno introdotto sta permettendo che il mio popolo sbandi che venga e gli venga chiesto di percorrere una via che io non gli ho ordinato di percorrere la mia chiesa è stata invasa da quelli che si nascondono al suo interno per perpetrare orribile peccati per colpa dei quali il mio cuore si sta distanguando la mia chiesa si sta avviando verso lo scisma a causa della continua trasgressione alla mia legge da parte di alcuni di quelli che io chiamo miei figli prediletti i miei religiosi e le mie religiose che stanno accettando quello che ho definito peccato e abbovinevole ai miei occhi ecco è come come dicevamo prima vedete come sono collegati tutti i messaggi dicono proprio questo che proprio tutto ciò va a a intaccare proprio la santa chiesa cioè proprio sembrerebbe che deve accadere qualcosa che si va ad allontanare verso dio cioè come se dovessero come posso dire creare un nuovo vangelo una nuova bibbia un nuovo una nuova dottrina speriamo di no poi faremo una puntata anche su bruno cornacchiolla delle tre fontane il signore quindi iddio fece vedere a bruno cornacchiolla tramite la vergine maria quello che sarebbe accaduto alla santa chiesa e dice mi pare che lui si svegliò da un sogno da una visione e disse mai accade una cosa del genere staremo a vedere quello che accadrà e qui continua il messaggio molto lungo come al solito di quello che sta facendo la legge umana ad esempio sappiamo bene a new york in america che hanno accettato l'aborto tra virgolette ma forte questo questo un abominio agli occhi di dio e questo porterà sicuramente a delle catastrofi che si attireranno loro e tutta la nostra popolazione mondiale questo è così per questo che bisogna chiedere misericordia al signore perdono anche per questo dice dice in questo messaggio il mio popolo soffre per essersi messo contro la legge divina in quanto può condividere con i propri fratelli quello che non ha in cuore proprio questo sta sta avvenendo dice gli eventi saranno continui e non si faranno attendere arriveranno nell'uno e nell'altro paese la terra si rivolterà contro l'uomo tant'è vero che vediamo che è una situazione assurda qui parla dell'islanda della cina della spagna ma quello che dice pregate figli miei per la santa chiesa per la mia chiesa che sarà sorpresa da una notizia cosa accadrà solo dio lo sa però attenzione che è una situazione veramente abominevole sta accadendo qualcosa che vedremo la legge di la parola di dio è vera e sincero è quello che dice dio possa vera quindi vedremo e dice proprio questo non tanto valutate i miei appelli guardate in alto guardate in alto proprio questo sta avvenendo colle del buon pastore carbonia anche qui dice uomini infedeli o popoli in grado che male ti ho fatto quale verrà quale verrà ora la tua condizione anche in questo messaggio si riparne dalla giustizia di dio si riparla praticamente allontanatevi dalle false ideologie promette il mio santo vangelo a tutte le genti e invece proprio proprio questo è il problema grave quello che dicevamo prima che all'interno si si sta creando della santa chiesa purtroppo movimenti eretici che vanno contro praticamente quello che dice il signore e questo che cosa comporta comporta purtroppo delle delle situazioni veramente negative per tutto il popolo di dio non solo e poi dice questo l'italia è per essere aggredita da nemici entreranno in gran numero per distruggerla e prenderne possesso quindi attenzione anche alla nostra patria che verrà attaccata si parla in realtà di una invasione dalle che arriverà dall'est per l'italia dio solo sa come avverrà che il signore ci perdoni questa è la prima cosa e poi dice convertitevi in questi istanti in cui ancora potete farlo perché proveranno fuoco e grandine dal cielo e tutta la terra sarà messa in condizione di pena e parla del peccato che deve essere debellato la pazienza purtroppo sta per finire inizierà praticamente questa giustizia purtroppo che arriverà proprio questo ma quello come dicevo prima è proprio la questione della della santa chiesa che come se dovesse accadere un qualcosa all'interno della santa chiesa che modificheranno determinate cose tant'è vero dice presto celebreranno la mia morte la crocifissione nella mia casa terribile sarà il momento perché dio manderà l'avvertimento certo accadrà un qualcosa come diceva all'interno della santa chiesa che porterà poi anche alla alla situazione dell'avvertimento come già abbiamo detto in massaggi passati altra altro messaggio di enoch e questo parla di un messaggio che parla dei genitori di notte prendete i cellulari dei vostri figli e spegnete i computer tirati fuori dalle camere i televisori dei videogiochi perché per colpa di questi dei della tecnologia umana che molti bambini giovani famiglie si stanno perdendo questo è un messaggio che riguarda proprio quello che stiamo facendo attualmente tutti impregnati nella tecnologia tutti che vanno solamente sui cellulari su internet sui televisori dove purtroppo al posto di dio non c'è più dio all'interno delle sante famiglie chiamiamo così come deve essere chiamata ma c'è solo gli dei c'è il demonio che mette di zania e porta l'allontanamento delle famiglie verso dio ed ecco perché ci possono separazioni ci sono distruzione delle stesse famiglie praticamente e tanto è vero che questo sarebbe il tempo qui dice di essere uniti in preghiera invece perché si stanno avvicinando i giorni della giustizia divina invece ognuno fa come gli pare e questo non gli interessa perché quello che gli importa sono le preoccupazioni mondane ecco purtroppo questi sono situazioni è un bel messaggio da leggere ovviamente io ve l'ho riassunto perché è molto lungo ma dice ponderate dunque genitore quanto prima riprendete il controllo delle vostre case dice questa affinché queste domani non si perdano al passaggio della giustizia divina cioè ritornata a dio prima che sia troppo d'arte questo è quello che dice trevignano romano 2 febbraio 2019 come a me giugori e ad anguera dice questo la vergine maria amati figli miei amati miei quanta umiltà e quanta amore per dio vedo in molti di questi figli stasera ma vedo anche tanta confusione nelle vostre menti nei vostri cuori vi chiedo di non ascoltare dice ascoltate bene ritornando alla questione della santa chiesa chi vuole cambiare la parola ciò che vi è stato lasciato scritto non è da interpretare ma soltanto da mettere in pratica siate sempre fedeli al vangelo gli è scritta tutta la verità cioè non si può cambiare il vangelo se avverrà questo la giustizia divina avverrà così è detta e sarà così se il dio ci avverte che questo è la situazione questo avverrà sicuramente è inutile che ci giriamo intorno ma questo avverrà sicuramente io vi ringrazio della vostra attenzione dio vi benedica naturalmente scusate per la scrittura che ho scritto qui in questo in questa immagine e per la per la voce che non è purtroppo sono raffreddato e questo più di questo non posso parlare dio vi benedica gloria a dio per il canale che si stanno aumentando le iscrizioni e di gloria a dio veramente e che il signore possa se vuole altre iscrizioni in questo canale per dire la verità di gesù poi fondamentalmente nel canale su non è manco il mio dato a lui quello che vi dico ecco pregate 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 andate alla santa messa preghiamo per la santa chiesa che non avvenga che si mitica questa situazione che che vorranno cambiare veramente molte cose dalla scrittura alla dottrina e che sia fatta la volontà di nostro signore gesù cristo sia sempre lo dato gesù cristo perché è un periodo veramente abominevole chiamiamolo come va chiamata un periodo davvero difficile bisogna pregare e rimanere con gesù e dire la verità come ci hanno detto le profezie e come dice soprattutto il vangelo perché la cosa più importante come vi dico qui è diffondete il vangelo diffondete il vangelo il vangelo di gesù i messaggi sono un aiuto al vangelo ma il vangelo la cosa principale questa è la cosa principale il santo vangelo la santa chiesa se potete e se volete dio vi benedica iscrivetevi al canale diffondetelo mettete anche la campanella per i nuovi video quando dio vorrà avverranno io vi auguro una buona serata e sia fatta la volontà di nostro signore gesù Visto.